Intro Benvenuti ragazzi qui è l'E, oggi andrò per vedere i 5 streamer in live per errore Prima di iniziare il video volevo salutare DP e Davide Gamer che hanno trovato per primi la frase segreta nel video precedente Passato il mio secondo canale tutto dedicato ai vlog e dal mio profilo Instagram Raggiungiamo i 1000 like per questo video Mentre stava aggiustando le impostazioni di OBS Sofapopin si è ritrovato per errori in live ben due minuti Per sua fortuna non ha fatto nulla di strano ma moltissime persone l'hanno visto mentre faceva lo stupido di fronte alla videocamera e provava il microfono Ciao 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 Aspettate un secondo, ho andato a live? A tutti noi dà fastidio essere osservati mentre stiamo dormendo. Pensate se tante persone vi guardassero in live mentre state dormendo. È quello che è successo a OMG Chad alle 6.30 del mattino. Come spesso succede il computer viene lasciato acceso anche la notte per finire dei lavori o altro. Purtroppo alcuni di noi hanno dei gatti che puntualmente si siedono sulla tastiera, in questo caso premendo precisamente il tasto per la live. Per colpa del suo gatto Chad si è ritrovato in live per 10 minuti fino a quando un suo amico non lo ha chiamato per svegliare. Grazie a tutti. Con il boom di Pokemon Go in molti si sono messi a streammare per le strade giocando, ma molti preferivano registrare l'ambiente intorno a sé piuttosto che la propria faccia. Celeste non fa eccezione e mentre stava registrando Pokemon Go l'ultima cosa che pensava potesse accadere era di vedere la propria faccia sullo schermo. Motivo per cui quando lo ha notato si è spaventata e ha lasciato cadere il telefono a terra, come succede a tutti noi quando apriamo con la fotocamera a fruttare. Si, quando i meti tu, i'm literally going to shove a fucking joint up your ass and light it with your consent. Stream Outlast. Ok, let me just fucking do IRL Outlast. Why don't I be the monster and scare the shit out of people? Wow, where are you? Ah! Turn it off! Di nuovo OMG Chad. Questo tizio è veramente sfortunato per le live. Mentre se ne stava per i fatti suoi, per errore parte la live e migliaia di persone iniziano a guardarlo. Per nostra sfortuna non sentiamo ciò che dice, perchè il microfono è scollegato, ma è abbastanza intuibile ciò che dice. La voce che sentiamo nel video è di un gruppo di ragazzi che commentava la live. Dopo 20 minuti Chad si rende conto della live e prontamente la scollega. Grazie a tutti. for you oh hope you guys enjoyed I thought we ended this like you guys said one second so thanks for watching everybody what I'm so confused last round thanks for watching hello mt chat he is streaming the g-mod quando siamo soli facciamo moltissime cose stupide perché tanto non ci vede nessuno e se siamo in compagnia di un nostro amico facciamo ancora di peggio luna lyric stava apparentemente giocando con il suo green screen per passare il tempo facendo tra le cose più stupide e assurde possibili ma poco dopo le arriva una telefonata da parte di un suo amico che la avverte della live in corso e tutti hanno visto ciò che stava facendo incredibile che stava facendo che stava facendo Sì All right, I think that's that for that. And then now we'll just. We should do bad things. All right. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.